Eccolo, 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 è piedista, bipolarista, destrista, sinistrista, globista, è integralista, è assoluto, è il padre di tutti i piedisti, è il piedista lavoratore, è il piedista di destra, è il piedista di sinistra, è il piedista indeciso, è il piedista a tutti gli effetti, è il piedista che ha deciso di farci male, perché questo fino a poi te prende, te prende lo sbarco, te prende il momento che la buga lo snazzica e la rotula diventa Tonsilla, e secondo te sto male, è il piedista, è un fenomeno italico, è la realtà, e lui è proprio il padre di tutti i piedisti, ammazza quanto pieta, ammazza quanto piega, ammazza quanto è il piedista, è il piedista dalla gamba sbucciata, non è reata, sta a un secolo che gli si piatta, eccolo!